Ciao ragazzi, benvenuti in questo mio nuovo video dove parliamo di calcio mercato dove in questo caso parliamo sempre di Inter, parliamo di Lautaro Martinez però prima di farlo vi dico una cosa allora alle 5 e mezza, penso che lo sapete tutti, tutti quelli la che seguono il calcio e seguono il Napoli alle 5 e mezza sta l'amichevole Napoli Ascoli Napoli Ascoli, amichevole precampionato precampionato, partita di precampionato e sarò in live, quindi mi raccomando, prendiamo più aspettatori possibili così ce la vediamo insieme la partita ce la vediamo insieme e niente, detto questo, ah, un'altra cosa, lasciate tantissimi like, iscrivetevi al canale attivate la campanellina, lasciate un commento lasciate un commento e fatemi sapere cosa ne pensate però di che dobbiamo parlare? di Lautaro Martinez, ragazzi di Lautaro Martinez l'Inter sappiamo, ora ha venduto Lukaku per 115 milioni al Chelsea ho fatto il video già prima dell'ufficializzazione dove ho detto ufficiale Lukaku Lukaku al Chelsea perché era tutto sicuro, ormai l'aveva detto anche di Mike stiamo parlando di Lautaro ci sono interessi del Tottenham ma l'Inter l'ha detto non accettiamo cifre al di sotto dei 90 milioni quindi l'ha rifiutata praticamente visto che ha detto queste parole però questo cosa fa capire? fa capire che per l'Inter per l'Inter nessun giocatore è incedibile quindi io fossi giocatore dell'Inter mi preoccuperei ma mi preoccuperei perché si arriva anche l'offerta giusto per la tua perché no? dice l'Inter ok accetto, accetto accetto, basta che mi date una cifra le cifre che vogliamo quindi nessuno nessun giocatore dell'Inter è incedibile nessuno, 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 nessuno e quindi qua cari tipo dell'Inter siete a rischio anche di perdere di perdere il terzo big perché poi se ne stanno andando tutti i big qua manca solo screen and the price e poi se ne va se ne va la Tana e anche Barella lo stesso bro vabbè ci sono big all'Inter però comunque qua già se se ne è andato Lukaku e Hakimi sono due che hanno proprio dato loro la grossa mano a vincere lo scudetto all'Inter quindi se se ne vanno già due big poi se ne va anche Lautaro perché due 15-16 golli ha fatti anche l'anno scorso in campionato quindi quello che ha contribuito anche lui per far vincere lo scudetto all'Inter poi se ne va anche lui io penso di no io penso di no penso che rimane all'Inter penso che rimane all'Inter e vicino a lui penso che viene affiancato un Duan Zapata perché è quello il nome più caldo secondo me e chi lo sa pure il Geko non lo so vediamo comunque il Tottenham ha fatto l'offerta 70 milioni l'Inter l'Inter ha fatto capire che l'ha rifiutato perché ha detto accetto solo offerte dai 90 milioni quindi se il Tottenham non non fa di nuovo l'offerta come ha fatto il Chelsea penso che non se lo prende e qua si arriva anche l'offerta buona per Lautaro si scede anche quello si scede anche quello e fanno bene tipo si indirisci a innervosirsi eh fanno bene perché qua ogni ogni offerta buona si accetta si accetta si accetta si accetta si accetta e qua stanno smantellando un po' la squadra secondo me dice Nzaki ma chi chi me l'ha fatto fare venire qua chi me l'ha fatto fare venire qua ok un big ok un big va bene va bene un big ma se già inizia a scettare due big e si arriva l'offerta buona per gli altri big c'è anche quello è possibile che c'è anche quello povero Nzaki mi viene da dire povero Nzaki povero Nzaki perché c'è è incredibile è incredibile incredibile e niente ragazzi il video può finire qui spero che vi sia piaciuto lasciatemi like iscrivetevi al canale attivate la campanellina e niente fatemi sapere un commento qui sotto cari cari amici cari tifosi interi commento qua sotto ciao ciao